Ed ora andiamo a Sirolo dove le eccellenze dell'artigianato artistico Made in Marche si mettono in vetrina e provano a dare una spinta al turismo. Dalle opere in ferro di Mastri Fabri alle maioliche di Abili ceramiste fino alle pergamene dei Mastri Cartai di Fabriano. C'è tutto il saper fare in marchigiano nel mercatino estivo allestito nel Parco della Repubblica di Sirolo ogni mercoledì e domenica dalle 17 alle 24. Per tutta l'estate fino al 10 settembre in mostra con le loro creazioni artistiche ben 20 aziende e maestri artigiani che hanno sposato il brand La Via Maestra. Il progetto è fermato con Fartigianato e Imprese Ancona a Pesaro Urbino che punta a portare fuori dalle botteghe l'artigianato artistico Made in Marche con un duplice obiettivo. Coniugare il saper fare e valorizzare il territorio cercando di avvicinare i nostri turisti a una forte conoscenza del nostro territorio e magari sensibilizzare i più giovani anche nel conoscere dei mestieri che oggi sono un pochino in disuso. Facciamo difficoltà a tramandare il patrimonio delle competenze dell'artigianato artistico e magari creare nuovi imprenditori in prospettiva. Ma se la Via Maestra passa per Sirolo per tutta l'estate non mancherà di attraversare le Marche con iniziative, esposizioni e laboratori in programma fino a settembre in linea con la vocazione di un progetto ormai collaudato che punta a svelare a tutti il talento dietro il lavoro di bottega. Via Maestra è un progetto nato quasi 20 anni fa con l'obiettivo di valorizzare gli imprenditori che si impegnano nel settore dell'artigianato artistico e i maestri artigiani riconosciuti anche dalla regione Marche che spendono il loro tempo nella creazione di manufatti artigianali di grande qualità e che ripercorrono quelle che sono le tecniche tradizionali che caratterizzano il saper fare marchigiano. Ma non solo, con la Via Maestra l'itineraglio tra le eccellenze artigiane è anche un viaggio alla scoperta delle bellezze locali. Così l'iniziativa fa da traino anche al turismo. Credo che sia un volano per mostrare queste bellissime attività che gli artigiani artistici, diciamo l'artigianato artistico, svolge così in maniera veramente meravigliosa. Con i tantissimi turisti che frequentano queste bellissime località sia un unicum veramente importante. Ne è convinto anche il comune di Sirolo? Grazie al progetto di confartigianato, la Perla del Conero punta a fare il pieno di turisti. Siamo convinti che con la collaborazione fra istituzioni e organizzazioni si riescano a dare migliori servizi ai cittadini ma anche migliori servizi ai turisti. La Via Maestra è un esempio pratico di questo ragionamento che è stato portato avanti e finalmente è stato attuato.